Raga, ma come si fa? Come si fa? Come si fa? Comunque, mettiamo questo bene, ok? Dunque ragazzi, nuovo video molto veloce, il Napoli casca al San Paolo, la Juve batte per 1-0 la Lazio Il campionato si decide qua, il 50% del campionato si decide qua La Juventus, se dovesse vincere il 14 marzo contro l'Atalanta, si porterebbe ovviamente prima in classifica Perché appunto è un punto in meno, il Napoli ha già perso 4-2 contro la Roma Che scandalo, che scandalo, che scandalo, che scandalo La Juventus ragazzi, la Lazio-Juventus, partita molto equilibrata, secondo me doveva finire in parità Ci ha pensato proprio lui, Di Bala, Di Bala, Di Bala, Di Bala Al 93esimo da terra fa gol, fa gol, bel gol di Di Bala Grande Di Bala perché ti ho il fantacalcio, grazie Di Bala Comunque, oltre a Di Bala, la Lazio ci ha provato, ha avuto anche qualche occasione La Juventus, un tiro, un gol, cinica, veramente cinica Se non ci fosse stato quel talento in campo che si chiama appunto Di Bala Sicuramente la partita non sarebbe finita, 1-0 ma sarebbe finita, 0-0 Il Napoli successivamente doveva assolutamente vincere per continuare la corsa E per continuare a stare in testa al campionato Passa subito in vantaggio il Napoli 4-1 Roma, ma com'è possibile? 4-1 Roma, gol di Hunder, non so manco io come è passato quel pallone Io pensavo tutto dove andava quella palla, tranne che andava in porta Poi, ragazzi, ha fatto proprio così Pum, gol Poi, doppietta a Dzeko, grazie, grazie che ha preso Giallo Perché alla prossima partita ce l'ho contro il fantacalcio Tanto che è stato diffidato, non lo potrà schierare il mio avversario E poi ci pensa Diego Perotti a fare il 4-1 I tifosi del Napoli ci hanno avuto fino alla fine Infatti alla fine è arrivato anche un gol del 4-2 Giusto per fare un po' di classifica a marcatori per Dries Mertens Comunque il pubblico del Napoli mi è piaciuto molto Molti bambini che piangevano, mi dispiace per quello Però il Napoli, nonostante il Napoli abbia verso 4-2 Alla fine ha sempre sostenuto i suoi giocatori Anche dopo la partita E la cosa che mi è piaciuta di più è che i giocatori sono andati sotto la curva del Napoli Comunque ad applaudire Quindi questa qui è una cosa che mi piace molto Mi dispiace, ripeto, per il Napoli Secondo me la Juventus non meritava di vincere Bensì il Napoli neanche meritava di vincere Entrambe, secondo me, oggi la Juventus doveva pareggiare E il Napoli era destinata a perdere Una Roma della Madonna Veramente sembra irriconoscibile rispetto alla Roma che stiamo vedendo negli ultimi periodi Dunque ragazzi, questo vi dice qui Dunque, molto probabilmente la Juventus sarà sorpassata al Napoli Appunto perché è una partita da recuperare Ditemi se il Napoli riuscirà comunque a far prima a fine del campionato Molto probabilmente il campionato si riuscirà allo scontro diretto Juventus-Napoli Ditemi come, secondo voi, chi andrà in testa alla fine tra Juventus e Napoli Secondo me ci vede ancora la Juventus Ragazzi, non so perché, ma ci vede ancora la Juventus La Juventus è una rosa molto più ampia Il Napoli, regà, non vedo tanta convinzione rispetto alla Juventus La Juventus è molto più solida, infatti oggi si è visto Però tutto è possibile Io spero che ci andrà in, che il Napoli vincere il campionato Però secondo me io vedo ancora la Juventus un gradino più alto Anche se il Napoli per ora sta mostrando un gioco fenomenale Comunque, come vi ho detto prima, questo è il video di sui qui Ditemi chi di voi a fine del campionato sarà prima tra Napoli e Juventus Noi ci vediamo in un prossimo video domani con il post partita di Milan-Inter Dai, ciao!